Sono 55 i nuovi casi di coronavirus accertati nella provincia di Prato nelle ultime 24 ore. 48 sono pratesi, 4 residenti a Maiano, 2 a Poggio a Caiano e 1 a Montemurlo. 11 i cittadini cinesi risultati positivi al Covid. Il totale delle positività raggiunge quota 11.343 e si registra un decesso che porta a 287 le vittime residenti in tutta la provincia. L'uomo aveva 94 anni, è morto a Santo Stefano, ma era residente alla RSA Pioistituto Santa Caterina dei Ricci, dove ad oggi si registrano 12 decessi. A Prato i posti letti occupati nell'area Covid sono 26 su 50. 4 le persone ricoverate in terapia intensiva. Restano vuoti 16 letti. Al centro Pegaso, su 23 posti, ne sono occupati 19. Completa la struttura La Melagrana con 42 contagiati. Sono i numeri contenuti nel bollettino diffuso dalla Regione per fare il punto sull'epidemia. In tutta la Toscana si contano 603 nuovi e positività, per un totale di 133.946. 22 sono i morti, 11 uomini e 11 donne, con un'età media di 83,5 anni. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria in Toscana sono decedute 4.194 persone. I nuovi casi sono emessi dall'analisi di 15.857 tamponi, tra molecolari e rapidi. Continua a scendere il numero dei pazienti ricoverati. Oggi sono 16 in meno di ieri, e cioè 743, di cui 95 nelle terapie intensive. Le persone complessivamente guarite sono 120.669. Alle 12 di oggi sono state vaccinate 113.636 persone.